Detto questo volevo fare vedere un video prima di cominciare. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie! 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 Ma ci sono momenti in cui tu vuoi rimanere in quella solitudine perché è la tua zona di comfort, perché tu preferisci rimanere lì perché ti senti protetto, è vero o no? Quanti di voi si sono sentiti protetti rimanendo soli e nel loro vuoto? Quanti? Tanti. Perché tu pensi che sei più tutelato e in teoria ti senti più protetto dagli attacchi esterni, è vero o no? E' verissimo. Perché tu dici, ok, io sto qua, nessuno mi disturba, chi vuoi che mi tocchi? No? Però c'è un verso della Bibbia che molto spesso viene usato nei matrimoni, ma io credo che c'entri bene con questo contesto, ed è in Genesi 2,18 che dice che non è bene che l'uomo sia solo. Perché non è buono che l'uomo sia solo? Perché lo sa, Dio lo sapeva, che il fatto di rimanere soli ti allontana dalla realtà sovrannaturale. Perché sapete, io penso che sia molto corretto e io dico sempre, anche se tu stai passando un momento difficile, non chiuderti a riccio, cerca aiuto, fatti aiutare. Perché nel momento in cui tu ti chiudi in quel riccio non stai facendo altro che rimanere solo e fare il gioco del nemico. Perché è lì che lui va a lavorare nella tua mente. Perché andrà a tirare fuori sempre delle cose che ti fanno male. Quante volte tu sei stato solo? Nella percentuale riflettici, quante volte hai pensato bene e quante volte hai pensato il peggio? Quale prevale? Il peggio. Perché nel momento in cui tu sei solo non fai altro che rimulginare a che cosa? Al passato. Perché sono le cose che ti fanno più male. È il passato che ti fa male, vero? Quando tu ti siedi e rifletti, cosa ti fa male? Il presente che sta andando meno o il passato che ti ha ferito? Il passato che ha ferito. Questo perché? Perché quando noi abbiamo questo vuoto interiore, cerchiamo di colmarlo con qualcosa. Per dire, là si vedeva che nella solitudine, come lo colmavano nel video, abbiamo visto il lavoro. Ma a oggi potrebbe essere qualsiasi cosa. Può essere il fumo, il gioco, l'alcol, tante tante cose che ti tirano fuori e continuano a farti stare solo. Sola. Ed è per quello che, arrivando a un certo punto della tua vita, ti fai due domande. Perché nessuno mi vuole? È vero o no? Perché nessuno mi pensa? Perché nessuno mi cerca? Quante volte tu solo hai detto, nessuno mi cerca? Un sacco di volte, se io dovessi dire, alziamo la mano, io credo che l'alziamo tutti. Io ti chiedo, perché rimani solo? È la persona che non ti sta cercando? O sei tu che ti stai isolando, perché ti fa stare meglio? E alle volte noi diamo la colpa agli altri. Invece è un nostro malessere. Ed è per quello che dobbiamo poi chiedere aiuto. È fondamentale chiedere aiuto in questi momenti. Quindi il senso di vuoto, che si accumula a livello emotivo, si configura proprio come una condizione di profonda insoddisfazione e mancanza di senso nella propria vita. È come se ci fosse un'assenza di emozioni o addirittura una disconnessione del mondo circostante. È vero o no? Che quando ti senti solo, ti senti fuori dal mondo. Vi è capitato di sentirti fuori dal mondo? È come se tu pensi in quel momento che quella cosa non è per te. È capitato anche, anche per testimonianze, che quando magari sono in chiesa, anche quella parola che è stata detta non viene ricevuta. Perché c'è un malessere proprio personale. Che poi se parli con altre persone, sono stati toccatissimi. Wow, che bello, meraviglioso, grazie. Invece quella persona, siccome ha un malessere, non riesce a vedere oltre. Forse piuttosto dice questa parola è. Dico, bella questa parola, è per la persona accanto a me, no? Perché magari sai che può centrare. E invece Dio sta parlando con te. Ma siccome tu sei un po' disconnesso da tutto ciò che tu stai sentendo, dici non è per me. Quante volte avete detto non è per me? Tante volte, credo. E se non l'avete detto, se non è per me, sarà per qualcuno. L'abbiamo detto. Quindi, la cosa fondamentale è che noi, la prima cosa è non restare soli. Noi dobbiamo sempre cercare un supporto. Ed è per questo che ci sono delle persone che sono state stabilite come mentori nella vita di ognuno di voi. E chi non ce l'ha, poi magari può informarsi meglio. Ma perché sono dei punti di riferimento? Perché quando tu ti trovi in quella condizione di vuoto, ti stendono una mano. E dice, io ci sono, non sei solo. Perché, sapete cosa fa il diavolo? Gira attorno a chi è solo. Anzi, più, come dicevo prima, sei solo, più il nemico sei proprio così. Ti prende. E cerca sempre di tirarti sempre più indietro, sempre più indietro, sempre più indietro. Perché quello che l'obiettivo vuole, quello che lui ha come obiettivo per il noi, come figli di Dio, ci odia, vero o no? Perché ci odia? Perché noi siamo i figli di Dio. Noi siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio. E ricordate perché lui poi è stato scacciato? Perché voleva essere come lui. Siccome lui non l'ha potuto ottenere questo, lui è geloso di noi. Ed è per questo che ci odia. Ed è per quello che lui gode a vederci soli, soffrire. Ma però ce lo cerchiamo anche noi, questo. Perché noi siamo pienamente consapevoli che questa è l'opera del nemico. E noi ci sguazziamo. Cioè, noi non facciamo altro che dire, vabbè, che ci fa? Ma oggi non vado in chiesa, ma oggi non me la sento di pregare. E siamo noi che facciamo delle scelte. Siamo tutti d'accordo su questo? Siamo noi che facciamo delle scelte. E se noi decidiamo di entrare in quel vuoto, ci dobbiamo entrare. Una motivazione per la quale tu entri nel vuoto è che ti allontani da tutto. Decidi di allontanarti, di rimanere solo. E molti l'errore che fanno, sapete qual è? Io nel mio vuoto troverò la risposta di Dio. e invece tu non sai che in quel vuoto il nemico ti sta facendo sprofondare e non stai facendo altro che fare il gioco del nemico. E tu vai lì sempre più in profondità e non è la profondità di Dio. È quella profondità che ti stradica da tutte le certezze che Dio fino ad oggi ti ha dato. È vero o no? Quante volte ti sei sentito strappare qualcosa pensando che la colpa fosse di Dio, perché tu ti sentivi in quella condizione di vuoto, interiore che lo Spirito Santo stava lavorando e invece ti stava solo rubando. Quanti hanno perso a causa di questo? Qualsiasi cosa possa essere una gioia, un tempo di debolezza che c'è stato forte e sei andata sempre più giù, 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 giù. Quante volte hai pianto? Quante volte ti sei sentita solo? Quante volte sei rimasto demoralizzato, deluso, amareggiato? Quante volte hai pensato che Dio ti avesse abbandonato? Perché sei solo nel vuoto. Ma in quel vuoto non stai facendo lavorare Dio, perché stai cercando la soluzione con la tua forza. Quante volte ti sei sentito stanco? Dopo che hai pregato, dopo che tu vuoi conquistare, vuoi fare, vuoi dire, e poi non vedi davvero il risultato. Ti sei sentito poi stanco e deluso? Sì o no? Ci sei sentito? Sapete perché? Perché l'abbiamo fatto solo ed esclusivamente con le nostre forze. E quando noi mettiamo avanti le nostre forze, noi falliamo. E allora è fondamentale che quando c'è una necessità, quando ti trovi in quel vuoto dove stai proprio per precipitare, devi chiedere aiuto. Perché la condizione del vuoto ha due visioni. E io per adesso ve ne sto parlando della prima, che è quella che vi allontana da Dio. È quella che vi fa sprofondare. È quella che vi tira proprio nel malessere. Tanto che poi tu odi te stesso. Quante volte ti sei guardato allo specchio e hai detto mamma mia, è meglio che non mi guardo. Quante volte, tantissime, io ho delle testimonianze che di più questa cosa l'abbiamo trattata anche in un evento di Time to Shine, che noi abbiamo messo uno specchio e mi sembra che già l'avevo più o meno parlato, che quando le persone si sono guardate qua piangevano. Quando si guardano allo specchio le persone piangono. è perché tu vedi il riflesso di Dio. E allora quanto è fondamentale specchiarsi nella parola, rivedersi nello spirituale, pensare al sovrannaturale, guardare con un'ottica differente quella sensazione di vuoto. Perché sapete, il vuoto può essere anche rappresentato come un momento di deserto. Momento in cui tu stai attraversando una dura prova per la tua vita. quanti hanno attraversato dure prove nella loro vita? O magari ne state già ancora attraversando, magari siete nella fase dell'attraversamento di questa dura prova. E tu sei in un deserto dove tu attorno a te non fai altro che vedere sabbia che cosa succede quando vai al mare, no? Che c'è la sabbia. Il piede cosa fa? Sprofonda. E quando tu alzi il piede essenzialmente poi quando sei bagnato si attacca tutta, no? Quante volte è successo questo? E tu vedi che invece di camminare bene ti riempi sempre di più di questa sabbia fastidiosa che non si toglie. È vero o no che non si toglie sta sabbia? Cioè rimane attaccata pure che tu ti sciacqui te la porti a casa. Perché si è attaccato e noi ci portiamo dietro questo deserto attaccato addosso facendo conto che vabbè è quello che Dio mi ha preparato. Ma Dio non ci ha preparato il peggio per farci soffrire. Dio ha preparato il meglio. E se ha preparato il meglio noi ce lo dobbiamo prendere. E se lui vuole che noi facciamo dei cambiamenti in quel vuoto dobbiamo permettere che lui lavori ma non da soli. E volevo leggere un verso che inizialmente non capivo molto bene quindi ho pregato tanto perché non riuscivo a capire il nesso con questo che adesso vi leggerò con la sensazione di vuoto oltre a quello che poi vi spiegherò. E andiamo in Giovanni 20 dal versetto 1 al versetto 10. Dice così Ora il primo giorno dopo i sabati al mattino quando era ancora buio Maria Maddalena andò al sepolcro e vide che la pietra era stata rimossa dal sepolcro. Allora andò di corsa da Simon Pietro e dall'altro discepolo che Gesù amava e disse loro hanno tolto il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'abbiano posto. Pietro dunque e l'altro discepolo uscirono fuori e si avviarono al sepolcro correvano tutti e due insieme ma l'altro discepolo corse avanti più in fretta di Pietro e arrivò al primo sepolcro e chinato si vide i panni di lino che giacevano nel sepolcro ma non vi entrò. Arrivò anche Simon Pietro che lo seguiva entrò nel sepolcro e vide i panni di lino che giacevano in terra e il sudario che era stato posto sul capo di Gesù esso non giaceva con i panni ma era ripiegato in un luogo a parte e anche ordinato c'erano ripiegati in un luogo a parte infatti qua ho detto anche qua ci dici che ci vuole un ordine nel seguire il tutto. Più avanti dice allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per il primo sepolcro vide e credette essi infatti non avevano ancora compreso la scrittura che gli doveva risuscitare dei molti e i discepoli poi ritornarono di nuovo a casa. Quando pregando mi è venuta in mente l'immagine della pietra che si sposta del sepolcro oltre al fattore che è sinonimo e simbolico proprio del fatto che Gesù esce di là perché torna e ci fa vivere ci sta dando proprio questa prospettiva che lui c'è che non è morto ma è risorto che vive dentro di noi e poi sappiamo che salirà al padre e siederà alla destra del padre e lascerà un consolatore. Ma oltre a questa visione io ho detto ma effettivamente quel momento di vuoto che tutti stanno provando perché in un secondo momento poi Gesù si farà vedere che inizialmente non sarà riconosciuto vi ricordate no? Però c'è quel momento di vuoto no? E in quel momento di vuoto c'è la disperazione di chi c'è la disperazione? Perché poi se leggiamo un po' più avanti dice che Maria rimane fuori da sepolcro a piangere quindi vedete che in un lasso di tempo che è istantaneo c'è un momento in cui c'è la sofferenza quindi io ho detto se anche in quel momento in cui Gesù è risorto per dirci che lui c'è che è vivo e vive dentro di noi che lui non è morto e che lui è vivo in quel lasso di tempo c'è stato un momento di sofferenza e io l'ho immaginato come quel momento di sofferenza che noi credenti viviamo solo che cos'è successo? Lei ha avuto quella sensibilità di vedere gli angeli quindi è chiaro che lui è lì e poi quando ha visto quella figura non l'aveva riconosciuta ha dopo capito che era Gesù tanto che poi lei cosa fa? Corre e dice oh vedi che c'è c'è alcuni non ci hanno creduto Tommaso addirittura ha voluto toccare per credere e questa è un po' la situazione di noi credenti nel momento in cui siamo in quel in quel vuoto no? non facciamo riferimento a Dio però lui è lì non è che lui se n'è andato è che è lì vedete cosa fa Maria? Pia ma io me l'immagino sta qua e penso anche a Gesù che era lì e dice ma povera che sta qua non ci ha capito niente cioè il vuoto non è più un vuoto perché io l'ho riempito di che cosa stiamo parlando? quel vuoto non esiste più siamo noi che vogliamo rimanere nella condizione di essere vuoti senza farci riempire dallo spirito santo e allora io ti chiedo vuoi rimanere ancora in quel vuoto o vuoi vedere invece la vita che Gesù ti dà anche se ti trovi in quel momento di deserto qual è la prospettiva che tu vuoi avere? perché cambia e allora ho fatto una piccola riflessione e se riusciamo a mandare l'altro video vi spiego un'altra cosa interessante grazie a tutti 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 facciamo un applauso a Dio perché vi ho fatto vedere questo? perché mentre pregavo per il messaggio dopo la visione del sepolcro ho avuto la visione della pianta che poi anche ieri abbiamo parlato di questo con Salvatore e mi veniva l'immagine avete presente l'esperimento delle lenticchie che si faceva a scuola? esatto col cotone bagnato che mettevi i semini lì mettevi l'acqua e ho letto che c'è una condizione specifica perché questa pianta dopo possa portare il suo frutto il suo germoglio e ho fatto una piccola ricerca non vi faccio l'esperimento ovviamente anche se l'idea era di portare qua la piantina col germoglio solo che ho letto che ci volevano dieci giorni quindi ho detto oddio me lo potevi dire prima non avevo dieci giorni di tempo per fare questo ed è per questo che c'è il video per farvi vedere ma dice che la tecnica per fare germogliare questi germogli questi semini è che il barattolo deve essere coperto dalla garza tenuto in luogo fresco e lontano da fonti di calore o di luce tutto questo perché affinché possa avvenire il germoglio in una seconda situazione momento in cui viene fuori il germoglio questo può essere messo a luce diretta quindi solo dopo che viene fuori il germoglio in un secondo tempo può essere messo fuori alla luce diretta affinché poi possa avvenire la germinazione per poi essere piantato e produrre il frutto e allora io cosa ho fatto ho detto bello questa cosa qua e l'ho detto e quindi come la collego tutte ste cose meravigliose e il collegamento era il vuoto il buio perché abbiamo detto che in quel momento preciso del vuoto che c'è la tomba che si apre il sepolcro Gesù esce quel secondo in cui quella piange poveretta disperata c'è un momento di buio così come la piantina che ha bisogno del buio affinché poi cosa succede nel momento in cui c'è il piccolo germoglio quindi probabilmente lei in quel momento parliamo di nani secondi ma io la vedo nella vita spirituale cosa avviene? avviene che c'è il germoglio e poi c'è la luce che è Gesù e io i compagni sono qua ti ricordi di me? e allora cosa c'è? e allora poi porta frutto quindi quel momento di vuoto che tu stai attraversando quel momento di difficoltà sta succedendo un cambiamento sta venendo fuori un piccolo germoglio che nel momento in cui Gesù subentrerà a fare luce nel tuo vuoto in quel buio in quel momento di solitudine arriverà quel piccolo germoglio che nella tua vita sarà il miracolo che porterà la germinazione per poter portare frutto nel momento in cui viene piantato amen? amen e ho detto bellissimo ma quanto è bello Dio cioè sepolcro è la pianta delle lenticchine degli esperimenti della scuola ma che bello ho detto Dio ma tu solo puoi fare queste cose che vedete la grandezza di Dio anche a scuola queste cose servono quindi per quello è importante studiare ragazzi studiate perché poi vede vi servono per le predicazioni quindi abbiamo detto che il terzo punto è non farti rubare la gioia quindi nel momento di divovolezza nel momento che sei solo non rimanere lì a piangere su te stesso perché più tu piangi più ti chiudi a te stesso e abbiamo detto che più non avviene il miracolo ma però ricordiamoci che non siamo soli perché nel momento X della nostra vita arriva Gesù che ci fa risplendere della sua benedizione e ci riempie di amore di passione di tutto ciò che ci dona di quello che lui è quindi dobbiamo consapevolizzare che due modi per vivere il vuoto il primo è lo vivi e ti fai sprofondare o lo vivi come un momento di cambiamento e trasformazione come lo vuoi vivere? e tutto è diverso perché se tu cambi la prospettiva e lo vedi invece come un fattore di un temporaneo deserto dove poi ci sarà quella luce che ti fa risplendere e ti fa portare frutto cambia tutto nella tua vita è vero o no? sei cominciando a guardare il tuo vuoto in un'ottica diversa? perché questo è quello che Dio vuole fare vuole fare cambiare l'ottica e poi sempre in linea tutto questo ho detto ma nel vuoto c'è qualcosa di buono oltre a quello che abbiamo visto perché se facciamo caso il sottovuoto serve ed è importante il sottovuoto no? perché io poco fa cosa vi ho detto? tu ti chiudi e ti escludi e il nemico ti attacca ma effettivamente nel sottovuoto nel momento in cui fa interagire Gesù il sottovuoto è fondamentale perché il sottovuoto è una tecnica di conservazione che si attua proprio a livello alimentare eliminando tutta l'aria e nel momento in cui tu togli l'aria che è più o meno un 99,9% di conseguenza l'alimento presente all'interno del contenitore si viene a trovare in una condizione di pressione ambientale di tipo negativo bello e quindi io ho pensato allora fermati un attimo abbiamo detto che il vuoto se tu lo vivi male ti fa sprofondare se invece lo vedi come un'opportunità di cambiamento tu porti frutto però il sottovuoto che è diverso dal vuoto ti tutela dagli attacchi del nemico vedete che è diverso è diversa come prospettiva perché se il vuoto ti fa sprofondare nel vuoto c'è cambiamento nel sottovuoto c'è la protezione di Dio e sei tutelato e quindi non c'è l'attacco del nemico perché sei aggrappato a Dio perché lo hai vissuto come un cambiamento ma ti metti sotto la protezione di Dio e quindi quel momento tu non lo vivi più come una sofferenza ma lo vivi come una benedizione perché c'è la protezione di Dio che elimina tutti gli attacchi del nemico al 99,9% cosa vogliamo di più dalla vita è fantastico quindi vedete la scienza serve a qualcosa a farci comprendere quello che Dio vuole fare nella nostra vita e penso che dobbiamo guardarle davvero attentamente nella nostra vita queste prospettive e viverle secondo il proposito di Dio secondo quello che Lui vuole fare nelle nostre vite noi dobbiamo viverla con la consapevolezza che ogni momento difficile non è una sconfitta ma diventa una vittoria tu devi entrare in questo meccanismo ogni sconfitta che tu stai vedendo in questo momento e la vivi con drammaticità perché noi poi siamo anche un po' talentuosi nel vivere le circostanze in maniera proprio così drammatica io c'è te oltre quando AXA cade non si è fatta niente ve lo giuro niente ma solo il fatto che è caduta succede un delirio c'è neanche il tempo di cadere e già piange non ha neanche urtato niente e magari la gamba dolore il ghiaccio subito ghiaccio ma non c'è niente il ghiaccio ferita cielo rosso cerotto urli proprio urla che prende i timpani basta non urlare non piangere non ti sei fatta niente però no si è fatta in quel momento lei sta subendo una sofferenza lei ha perso l'equilibrio quindi per lei nel momento in cui ha perso l'equilibrio è una tragedia e anche noi siamo così nel momento in cui perdiamo un attimino di vista quello che nel nostro pensiero ma non è nel suo proposito ci fa perdere completamente la visione entriamo in crisi piangiamo ci chiudiamo a noi stessi signore perché mi hai abbandonato tipo Gesù in croce che giustamente lui è stato un attimino abbandonato perché stava caricandosi di tutti i nostri peccati la nostra lordura quindi ci sta che in quel momento lui non senta più la presenza di Dio e dice padre padre perché mi hai abbandonato invece noi siccome facciamo di testa la nostra padre padre perché mi hai abbandonato e quello dice ma io non ti ho abbandonato stai facendo tutte cose tu tutto tu stai facendo di poco alla sicura e io me lo immagino che a lui si diverta poveretto si diverta non so se è giusto dire si è proprio dispiaciuto non a me ci guarda disperati non lo so io sette volte mi immagino la faccia di Dio tipo povera perché lui è là in quel nostro vuoto in quel momento in cui siamo scoraggiati è la colpa di chi è? o del vicino di casa o di tuo marito o di tua moglie o di tua madre o di tuo padre è la colpa di essere sempre di qualcuno l'importante che non è la tua tu sei la vittima alle volte noi ci sentiamo vittime no ma perché a me ma perché io ma perché lui ma perché lei è sempre colpa degli altri perché non ci prendiamo le nostre responsabilità delle nostre decisioni delle nostre scelte è di quello che noi stiamo facendo dal posto di Dio perché noi prendiamo il posto di Dio alle volte non ci possiamo permettere di prendere il posto di Dio perché falliremo e nel momento in cui tu fallisci cadi e vai in quel vuoto e quel vuoto ti trascina così in profondità che ti fa dimenticare anche quel 99,9% di protezione e dici Dio perché mi hai abbandonato e piangi e piangi e piangi e poi parla che succede no niente tutto a posto tutto a posto ma prego per te no no non c'è bisogno ho già pregato Dio sa questo Dio sa fantastico è normale che lui sa nessuno mette in dubbio che Dio sappia però c'è un momento in cui ti devi interagire con Dio tu devi chiedere perché cosa dice la parola di Dio che il regno dei cieli è lì a disposizione ed è dei violenti quindi se tu non te lo vai a prendere lo so che Dio lo sa e io lo so che là ci sono e però se non te li vai a prendere che facciamo li sono e li rimangono quindi invece di essere violenti tra di noi diventiamo violenti per il regno di Dio la stessa passione che mettiamo nel prenderci le cose con forza qua prendiamocene solo in naturale e invece noi facciamo tipo come me nel lavoro oh Dio tu il tuo stipendio l'aumento di qua di là cioè sto facendo un combattimento qui sulla terra ma io alla fine me lo sono afferrata lì e io sono andata a picchiare il mio titolare che non mi dava l'aumento ho detto no va bene come vuoi però alla fine cosa ho fatto io là me lo sono andata a prendere io mi sono impuntata e ho detto deve essere così ma non perché comando io ma perché comanda lui se mi spetta me lo piglio e tu me lo dai e ti sei pure zitto ma perché Dio è buono e decide lui e io ho detto al mio marito sono scioccata non ha neanche fiatato infatti poi ho detto al mio capo guarda che non ha neanche parlato lui mi guarda e fa non ti ha detto niente sono muto perché noi dobbiamo essere violenti nei cieli prenderci accapararci quelle benedizioni che lui già ha preparato e allora quando tu te le vai a prendere poi stai bene e sei felice invece noi facciamo quando le carte girano chiamiamole così dici wow Dio mi ama lui è padre lui sì che è un padre buono e si prende cura di me quando invece arriva quel momento di prova che deve entrare in quel famoso vuoto dici perché mi ha abbandonato ma perché non è lo stesso padre secondo te ti è cambiato la sua parola dice che lui non cambia dice così e allora perché diciamo c'è qualcosa che non va è lui che non va o siamo noi che non andiamo e allora lì ti fai un bel punto di domanda e dici sto attraversando il mio momento di vuoto ok lo affronto e poi mi metto sotto vuoto affinché io poi guardo con un'altra prospettiva che è la protezione di Dio sulla mia vita ed è fondamentale noi dobbiamo entrare in tutto questo e lui dice che noi non siamo soli abbiamo detto nel secondo punto noi non siamo soli perché lui è con noi e lo ha promesso e lo leggiamo in Giovanni 14 dal verso 16 al verso 18 dice così e io pregherò il padre ed egli vi darà un altro consolatore che rimanga con voi per sempre ditelo rimanga con me per sempre lo spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce ma voi lo conoscete quindi dillo io lo conosco perché dimora in me e sarà con me quindi lui dice che non ci lascerà orfani e tornerà a noi quindi lui non ci lascerà orfani quando noi ci sentiamo soli ricordiamoci che noi non siamo orfani che lui si prende cura di noi che lui ci vuole dare il meglio quante volte hai pensato che a qualcuno stava dando il meglio e a te no l'hai pensato dici ma perché a me mi dai solo questo e altri vedo che dai altro abbiamo pensato la verità siamo onesti con noi stessi l'abbiamo pensato perché noi pensiamo di essere sempre i figli meno preferiti no ma Dio non ha figli preferiti Dio non ha persone che preferisce e persone che non preferisce il fatto che lui usa prima una persona e dopo un'altra non è perché gli piace più una che un'altra è perché si sta vedendo che lui si rende disponibile quella persona e quindi la usa non ne fa preferenze tutto dipende sempre da noi come dicevamo all'inizio è una scelta quindi nel momento in cui tu fai questa scelta di renderti disponibile lui lavora dentro di te e fa in modo che tutte le tue ferite vengano sanate attraverso lo spirito santo che tu abbia un processo di cambiamento di trasformazione affinché lui si possa usare di te anche perché ricordatevi anche una cosa fondamentale che è chi va sempre in prima linea quando ci sono le guerre non sono quelli che non sanno tenere le armi in mano sono quelli che hanno già esperienza che sanno quello che fanno sanno come affrontare il nemico e sono in prima linea e combattono ma se tu sei debole hai un momento in cui non riesci ad avere forza come fai a dare forza alle altre persone vedete che è complicato se quello viene da te ti viene a dire io sto passando questo momento eh pure io però se tu stai passando questo momento lo hai passato e lo stai affrontando gli puoi dire guarda mi trovo in una situazione simile sto lavorando e sono sicura che Dio per come sta facendo con me fa con te ancora meglio quando tu hai già vissuto una situazione che lo spirito santo ti ha portato alla luce tu hai completamente proprio risolto ancora di più sei un aiuto che dici guarda l'ho vissuto ti do una mano ma è fondamentale la relazione cioè ragazzi ci sono persone che si mettono nei piedistalli e pensano che sono irraggiungibili solo Dio lo è solo Dio è in una posizione di stallo che noi lo dobbiamo guardare ed è irraggiungibile attraverso le nostre preghiere e noi guardiamo sempre all'essere umano e quell'essere umano si rende irraggiungibile perché si vana gloria e noi non possiamo permetterci di puntare all'uomo io non capisco davvero questo perché le persone devono per forza vedere il mito Gesù gli occhi puntati su Gesù è lui che ci tira fuori le persone noi siamo solo strumenti nelle mani di Dio che ci rendiamo disponibili ad aiutare e sostenere gli altri ma la gloria va a lui è fondamentale questo perché altrimenti tu in quel vuoto ci ricadi e dobbiamo fare molta attenzione perché nel momento in cui tu pensi che sia tutto merito tuo non hai capito niente non abbiamo capito niente di chi lui è di quanto è grande è l'unico che deve ricevere lodo e gloria è lui e quindi ognuno di noi deve essere usato e si deve rendere disponibile ma per fare questo c'è un processo di trasformazione e allora io ti invito ad alzarti in piedi perché credo che ognuno di noi nel bene o nel male ha attraversato e può essere una buona testimonianza o sta attraversando un momento difficile ha bisogno di aiuto e io ti chiedo questo abbiamo parlato che è fondamentale abbiamo detto questo è fondamentale attraversare un momento difficile per poi gioire della benedizione ma questi momenti difficili da che cosa sono dettati in questo momento della tua vita io potrei dire 10 miliardi di cose e tu dici no nessuno di tutto questo e io ti rispondo non sei obiettivo con te stesso perché noi abbiamo sempre qualcosa che tende a tirarci lontano dalla volontà di Dio il lavoro la voglia di non fare niente il ca fa caldo sto a casa piove sto a casa c'è il temporale sto a casa però Dio non sta a casa lui vive dentro di noi ma anche se vive dentro di noi noi abbiamo bisogno di avere quel contatto vedete all'inizio del video l'ho voluto mandare proprio perché vedete in quel momento era solo e aveva delle catene ma arrivando a un certo punto qualcuno aveva notato il suo malessere e quando qualcuno vi viene accanto e vi viene a dire tutto a posto prendetelo come un tocco da parte del cielo che c'è qualcuno che vi sta tenendo la mano e vi vuole togliere quelle catene dai piedi affinché voi possiate camminare nella luce e quando tu entri in questa ottica quando qualcuno ti dirà tutto a posto hai bisogno io ci sono ricordati che è Dio che ti ha mandato quell'angelo che quando ti giri vedi Gesù e dici wow la mia salvezza ma non perché quella persona è la tua salvezza ma perché ti ha mandato qualcuno per aiutarti a tirarti fuori da quel problema e quando tu inizi a vedere questo cambia la prospettiva sì o no e allora io ti chiedo questa mattina qualsiasi dico qualsiasi sia il vuoto in cui tu ti stai trovando chiamalo deserto chiamalo vuoto chiamalo depressione chiamalo isolamento chiamalo come vuoi qualsiasi cosa sia non permettere che ti tiri e ti faccia sprofondare lascia il controllo a Dio e so che lasciare il controllo è molto brutto sentirlo perché noi siamo abituati ad avere sotto controllo ogni cosa soprattutto se sono le nostre cose ma ricordiamoci che la nostra vita è nostra ma è sua noi apparteniamo a lui tutto quello che tu ti porti dentro farà in modo col passare del tempo se non lo lavori attraverso lo spirito santo non ti permetterà di andare oltre quindi io ti chiedo vuoi rimanere lì in un piedistallo magari a farti dire bravo wow bellissimo e quindi diventa apparenza o preferisci che sia qualcosa in cui lo spirito santo lo lavora e le persone lo riconoscono perché guardate che c'è differenza dal volerti far riconoscere qualcosa dettato da te e da quando tu vedi che invece è davvero lo spirito santo che ha operato c'è differenza perché quello diventa una testimonianza e tu la riconosci e diventa un esempio per te dice c'è arrivato lui c'è arrivato lei c'è arrivo anch'io e il nostro obiettivo è avere dei punti di riferimento proprio per dire ce la posso fare e allora se tu ce la vuoi fare questa mattina comincia oggi comincia a dire io ce la voglio fare qualsiasi momento sia nella difficoltà in cui io mi trovo qualsiasi cosa mi stia facendo male per davvero lascia il controllo a Dio lascialo proprio di Dio guarda io forse ho fatto resistenza mi è arrivato il momento di dare controllo a te e so che è difficile ma fai un passo di fede e vieni qua davanti che noi vogliamo pregare per te vogliamo davvero permettere allo spirito santo di farti fare questo passo avanti quindi questo è quello che sento nel mio cuore ci sono persone che sono state deluse ma così tanto deluse che l'hanno richiuso dentro se stesso e sono dentro quel fosso ma non se ne accorgono pensano che sia un momento transitorio lo è ma se lo fai controllare a Dio altrimenti tu rimani là e diventa per te un impedimento e allora approfittano per venire qui davanti e lasciare intervenire lo spirito santo per metterti sotto quel vuoto di protezione che tutela il tuo cuore tutela la tua vita e che lavora nella trasformazione grazie a tutti grazie a tutti